9.30, eccoci ritornati insieme in diretta, come vi dicevo anche in apertura. Oggi parliamo di un argomento molto interessante, soprattutto attuale, perché domani è la giornata europea degli antibiotici o più precisamente la giornata europea di sensibilizzazione sugli antibiotici e a questo proposito è stata organizzata una conferenza stampa di presentazione per promuovere un manifesto che vuole spiegare alla popolazione i rischi dell'uso inappropriato di antibiotici. Noi siamo collegati telefonicamente, lo ringraziamo perché sappiamo che sono giornate impegnative, con il dottor Pierluigi De Paolis, medico di medicina generale, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Foggia. Buongiorno dottor De Paolis, grazie per aver accorto il mio spendito. Buongiorno dottoressa, buongiorno a tutti i telespettatori di Telepadre Pio. Grazie, allora parliamo della presentazione di questa campagna di sensibilizzazione. Noi abbiamo, grazie alla nostra regia, sul nostro schermo proprio il manifesto che avete preparato. Allora, ci spieghi l'importanza di questa sensibilizzazione? L'importanza è fondamentale, nasce naturalmente dalla conoscenza e dalla consapevolezza che se continuiamo ad utilizzare male gli antibiotici, che sono una grandissima risorsa della scienza medica, rischiamo tantissimo per la nostra salute, perché sviluppiamo sempre di più un antibiotico resistenza da parte dei germi che vogliamo combattere. Purtroppo ci rendiamo conto che oltre a un uso un po' indiscriminato, o meglio un'autoprescrizione che ci può essere da parte di ciascuno di noi dell'antibiotico, c'è anche un'assunzione inconsapevole da parte di tanta popolazione dell'antibiotico attraverso la catena alimentare. Sappiamo bene quanto negli allevamenti sia uvini che suini, bovini, negli allevamenti avicoli si fa un largo uso di antibiotico per cercare di preservare dalle infezioni gli animali che sono destinati poi al macello e quindi questi antibiotici poi attraverso i prodotti che noi assumiamo li vengono ad albergare nel nostro organismo e fanno senz'altro male, così pure in quello che è il mondo dell'agricoltura. Quindi la nostra commissione ambiente e salute, una commissione ordinistica, che si occupa proprio di attenzionare quelle che sono le problematiche dell'ambiente legate alla nostra salute, ha deciso di coinvolgere anche le altre professioni come appunto quella dei veterinari, quella dei farmacisti che spesso si trovano a ricevere delle richieste di prescrizione non da parte dei medici ma da parte degli utenti, dei clienti. Dobbiamo cercare di essere sensibili a questo problema, altrimenti rischiamo che nel 2050, secondo le previsioni dell'Organizzazione Mondiale della Salute, bene, nel 2050 potrà fare più vittime l'antibiotico resistenza che non una malattia grave come il cancro. Quindi più vittime appunto l'antibiotico resistenza anziché le infezioni stesse, perché c'è una... Perché non avremmo più un'arma letale per combattere le infezioni, in quanto i germi, i batteri, stanno diventando sempre più resistenti alle nostre armi atomiche, che sono gli antibiotici. In questa maniera non sapremmo più come difenderci, perché non vengono anche in questo momento, alla luce dal parte del mondo dell'industria farmaceutica, nuove armi per combattere ancora meglio i germi che sono in circolazione. Dottor De Paulis, approfittiamo della sua presenza, perché appunto abbiamo visto il manifesto, chiedo alla regia di rimandare il manifesto, perché è molto importante. Ci sono proprio dei consigli, ecco, delle indicazioni che io vorrei che commentassimo insieme. Voi lo presenterete domani presso la sede dell'Ordine dei Medici di Foggia alle 17. Però andiamo proprio con il primo, la prima indicazione. Quindi usare gli antibiotici solo se ci vengono prescritti, dottor De Paulis. Assolutamente sì, perché ad esempio le infezioni virali come l'influenza, ma pure la stessa malattia da SARS-CoV-2, cioè il Covid, essendo malattie virali non vengono combattute dagli antibiotici. Quindi non ha nessun significato in presenza di un'influenza o della malattia da Covid usare gli antibiotici e soprattutto usarli indiscriminatamente autoprescrivendoceli. e non facciamo altro che creare antibiotico resistenza. Semmai dobbiamo aspettare il momento in cui il medico intravede delle complicanze batteriche per queste malattie e decide di usare gli antibiotici. Questo è il messaggio che si vuole lanciare. Un altro, se mi consente, subito successivo, è quello di attenersi alla posologia dell'antibiotico e soprattutto alla durata della terapia antibiotica. Spesso succede di ascoltare da un paziente che ha interrotto, dopo due o tre giorni, il primo miglioramento sintomatologico, clinico, ha interrotto l'assunzione dell'antibiotico. Anche questo è un errore fatale perché naturalmente può far sì che il germe che si era solo assopito si riprenda e sviluppi un antibiotico resistenza. E quante volte a volte le stesse persone, chi ha un animale in casa, decide forse autonomamente di dare l'antibiotico al proprio cane o gatto? Non si fa? Magari purtroppo servendosi dello stesso antibiotico e delle stesse posologie che usiamo per gli esseri umani. Anche qui dobbiamo ricorrere all'aiuto del medico degli animali, il veterinario, che è uno dei soggetti chiamati in causa non solo per gli allevamenti, naturalmente per l'uso umano, ma anche per i nostri compagni di casa come i cani e i gatti. Abbiamo sempre bisogno del consiglio dell'esperto per non sbagliare ad utilizzare farmaci che possono essere dannosi per la salute degli animali e per la salute dei conviventi degli animali. Poi per qualsiasi informazione, dubbio o altro, consultare il proprio medico, farmacista o in caso di animali il veterinario. Dottor De Paulis, non la trattengo oltre, ricordiamo l'appuntamento, quindi domani pomeriggio presso la sede dell'Ordine dei Medici di Foggia? Alle 17. Una conferenza stampa alla quale parteciperanno tutte le professioni sanitari e le altre professioni che nel mondo della natura ci aiutano a vivere meglio e devono adottare tutte e tutte le precauzioni per far sì che l'antibiotico resistenza sia un fenomeno che si possa ancora controllare. Grazie di cuore per essere stato con noi, grazie al dottor Pierluigi Nicola De Paulis, presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Foggia, medico di medicina generale. Mi permette anche di ringraziare, grazie anche al lavoro della Commissione Ornistica Ambiente e Salute, la coordinatrice, la dottoressa Maria Grazia Santa Maria. Grazie di cuore per il lavoro che fate, dottor De Paulis. Grazie a lei e alla dottoressa Maria Grazia Santa Maria, un applauso eccezionale per la capacità e la tenacia con cui ha tenuto insieme questo lavoro e speriamo che porti i suoi frutti. Buon ascolto a tutti. Noi siamo a disposizione, dottor De Paulis, iniziative come queste possiamo essere la nostra piccola grande cassa di risonanza. Buon lavoro a tutti. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie. Grazie.